Buonasera a tutti amici di Rubrica Rosso Nera, ben ritrovati sul nostro canale. Rubrica Rosso Nera, appunto, la casa delle rubriche, la rubrica dello scouting oggi. E, come sempre, quando ci sono le pause dei club, è sempre molto interessante andare a vedere le nazionali, andare a scoprire nuovi giocatori, nuovi talenti, nuove promesse del calcio europeo, del calcio mondiale. Siamo rimasti molto impressionati da un giocatore che abbiamo sfidato direttamente con la Svizzera, con l'Italia, si chiama Noa Okafor, l'attaccante, l'attaccante che ha messo difficoltà a Cerbi e Bonucci. Classe 2000, questo attaccante, in questo momento in forza al Salisburgo. E alla fine del video faremo anche una riflessione sul Salisburgo e il modello Lipsia, il modello Red Bull. Okafor è cresciuto nel settore giovanile del Basilea, arrivando a esordire tra i grandi a 18 anni, 5 giorni prima, prima di compiere 18 anni, quindi un attaccante, un predestinato. Nel match di campionato contro il Lucerna, altra compagine svizzera. E dopo due mesi, circa, arriva la sua prima rete con il Neuchatel Xamah. E' un attaccante interessante che è rimasto con la maglia rosso-blu, la maglia del Basilea, fino al 2020, fino al gennaio 2020, quando arriva la chiamata, sempre molto attenta, molto presente nel mercato europeo del Salisburgo. con pagine appartenente alla, possiamo dire, al grande gruppo della Red Bull, che come sempre ha un grande fiuto, ha una grande organizzazione legata allo scouting. E' arrivato al Salisburgo per una cifra importante, perché il Salisburgo per lui, in qualche modo, sborsa circa 11 milioni di euro. E, nel primo anno, nell'anno e mezzo, con la maglia austriaca, Okafor raccoglie 32 presenze, segnando 8 reti. E, in questo momento, il giocatore è cambiato, è cresciuto tantissimo. Tanto che, si è già meritato, come avete visto, la chiamata della nazionale, la nazionale svizzera, con cui ha esordito in Nations League, con la maglia contro l'Inghilterra, nel giugno 2019. E' un attaccante che mi è piaciuto molto, perché ha alto 1,85-89 kg, però ha compiuto, ed è questo il merito, il grande merito del Salisburgo, di aver visto in lui un giocatore, un prototipo di attaccante moderno. Perché lui è cresciuto, nelle giovani del Basilea, come esterno, come ala. Mentre, in Austria, gli è stata cambiata la posizione al tecnico, spostandolo a prima punta, iniziando a segnare, iniziando anche, in qualche modo, a offrire prestazioni sempre più importanti. E' un giocatore che, contro l'Italia, ha dimostrato tutte le sue qualità. E' un giocatore, un giocatore di ottima struttura fisica, grande velocità e, soprattutto, caratteristiche tecniche non indifferenti. Caratteristiche tecniche hanno attirato l'attenzione di tanti club. E, soprattutto, queste doti lo rendono un attaccante molto forte, soprattutto in progressione. E' un attaccante moderno, fisico, veloce. E' un po' il prototipo dell'attaccante, in questo momento, che viene ricercato dai grandi club. E, soprattutto, è un profilo, un attaccante, capace di fare male sia sul lungo, essendo molto veloce, sia, soprattutto, nello stretto, grazie alla sua grande tecnica pregiata. Una tecnica veramente sopraffina. Mi ha stupito il ragazzo, non tanto in sé solo per la prestazione, ma perché è un ragazzo del 2000, quindi 21 anni, e, soprattutto, ha dimostrato, veramente, una grande tecnica, grande personalità, soprattutto. Una grande mentalità, una mentalità da giocatore di grande squadra, da grande club. E, soprattutto, in questo momento, il Milan, e faccio la riflessione che dicevo prima, deve sempre più, e lo sta già facendo bene, avvicinarsi al modello Lipsia, avvicinarsi al modello del Red Bull, ovvero, di andare a fare uno scouting mirato, di fare uno scouting in qualche modo, e setacciare sempre bene il calcio europeo, il calcio internazionale. Rubrica rossonera, la rubrica dello scouting, questo giocatore è un giocatore interessante. Non so cosa ne pensate voi, amici, rubrica rossonera, fatemelo sapere nei commenti del video, un attaccante che a me, personalmente, contro l'Italia, seppur un taglio un pochino sottotono, è piaciuto, davvero, davvero tanto. E, come sempre, vi chiediamo di mettere mi piace, di condividere, di iscrivervi al canale YouTube di Rubrica Rossonera, e, come sempre, forza, forza, Milan!